Come ringraziarla per l'onore che ti ha detto, per l'intervento. Grazie, sei venuto a Udine. Come va? Bene, bene. Mi ringhiste come si dice, insomma. Mi sono andata per la frontiera, per la comunità è molto più impegnativa. Se cose più... Presidente, benvenuto a Beazzi, a Sonoma di Solisiani, d'Italia. Benvenuto alla sera. Un grande onore. Ringraziarla per quanto fa l'intervento. Un grande onore. Un grande onore. Un grande onore. Un grande onore. Benvenuto al centro professionale Beazzi. Io sono Marco Gelli e frequento il terzo anno del manuttentore di sistemi meccanici. Questo qua, da come vede, è l'officina. Questo qua è il reparto dei Torni. Più avanti c'è il reparto delle presatrici. Questo qui è il Tornio, che è formato da tre particolari. Due boccole. Queste due boccolette. E l'alberino. Ogni lavorazione ha sempre una lavorazione nuova. In questo particolare qui ho avuto l'aconistà, che è stata nuova per me, e la filettatura interna. Quindi ogni volta c'è un'esperienza nuova. Sì. Quindi si apprende sempre più e si padroneggia magnificamente, perché la macchina è complessa. Questa è una macchina computerizzata che svolge il taglio di materiali. è un'altra cosa. Questi pezzi qua, prima di essere eseguiti, vengono fatti da me al computer. E poi metti dentro nella macchina. È proprio facile. Questa è una cosa di una... Sì, questo qua è Don Bosco con una delle sue frasi più ciale e riconosciute. un buon mostraccio. È 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 una perfetta... Complimento. Grazie. 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 Buongiorno, ragazzi. Buongiorno, Presidente. Buongiorno. Sono Emanuele Basso della Terza Motoristica e do il benvenuto all'interno della nostra officina. Grazie. La nostra sezione si divide particolarmente in due officine, una dall'altro lato, una qua, in quella dall'altra parte principalmente ci lavorano le seconde, vengono svolti lavori più generali per l'infarinamento della materia, mentre all'interno di questa ci lavorano i ragazzi di terza, dove si va più nello specifico, esattamente, quello che può essere magari dell'elettronica, delle macchine nuove e si preme tanto anche sull'inserimento dei ragazzi nel mondo del lavoro. Grazie. È tutto molto complesso, ovviamente. Si deve prendere la dimestichezza e il padronanza del... Grazie. Complimenti, auguri e buon lavoro. Grazie. 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 Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.